Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Prima di tutto mille volte grazie amici perché grazie a voi il canale finalmente è arrivato ai mille iscritti, abbiamo superato i mille iscritti e questo ovviamente vi fa enormemente piacere. Se sentite la voce un po' a nasale è perché sono un po' raffreddato, tranquilli, non ho il covid fortunatamente e quindi sono soltanto un pochino di malanni di stagione. Quindi grazie, grazie, grazie quello che vedete qui da questa parte è il video di benvenuto, la gif animata di benvenuto di YouTube quando si raggiungono i mille iscritti. Tra l'altro mi lascia un po' perplesso perché non ho capito perché a mille ti dicono che queste sono banane. Mi preoccupa un pochino la questione, potrebbero essere problemi da gestire. A me di problemi ne ho già tanti quindi non voglio gestirne altri. Però detto questo, grazie a voi significa che questo canale comunque piace in qualche modo e quello che dico raggiunge comunque un buon livello di soddisfazione. Da qui ovviamente teoricamente partirebbe la monetizzazione del canale ma non sappiamo, non so come se quanto effettivamente ci saranno delle rendite da questa roba perché davvero, viste le varie regole, le varie restrizioni, insomma è davvero molto 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 difficile riuscire secondo me a tirarci fuori qualcosa. Ma non è questo il problema. Il problema è la soddisfazione è che aver raggiunto i mille iscritti. Significa comunque è un traguardo veramente enorme dopo circa un anno e mezzo o due anni, forse due anni di lavoro. Quindi insomma, lavoro non è neanche un lavoro, è una passione. Comunque grazie davvero e quindi andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo sui mercati perché i mercati tornano alla tranquillità, tornano a salire, festeggiano il calo dei timori legati alla nuova variante che secondo gli esperti, come detto anche dallo stesso Fauci, al momento non ci sono evidenze di una maggiore pericolosità, forse di una maggiore contagiosità ma devono ancora terminare i test, per cui insomma per il momento riparte l'economia, ripartono le aziende del ciclo economico, quelle che sono quotate, diciamo che si basano sulle riaperture, tutte quelle che avevano sofferte in questa settimana, che erano scese tantissimo, ieri la stessa Carnival Corporation, quella delle crociere, non devo intendersi, ha fatto il più 8%, lo stesso ha fatto il Norwegian Cruise, ha fatto più 11%, di contro è crollata Moderna a meno 13% perché ovviamente calando diciamo le perplessità, calando un po' le paure, le aspettative, Moderna era schizzata tantissimo in questi giorni, sul fatto che potessero esserci nuovi sviluppi, nuove necessità e quindi ovviamente Moderna è un'azienda farmaceutica che è molto molto volatile. Detto questo andiamo subito a vedere i grafici e andiamo a capire un po' quello che sta succedendo sui grafici, innanzitutto vedete il Nasdaq è già positivo ed è già in buon rialzo, questo significa che tecnicamente innanzitutto siamo già su un livello molto molto interessante come vi ho già scritto ieri sera nel post, cioè siamo andati a chiudere questa candela rossa di venerdì sopra la media a 50 periodi e questo era già importante, dopodiché aveva rotto questo supporto che era non fortissimo ma comunque un supporto da tenere d'occhio. Ieri è rimbalzata, vedete facendo comunque delle oscillazioni abbastanza comunque pericolose perché era comunque partita in negativo e poi ha recuperato, ha chiuso in buon livello, un buon più 1%, oggi è già partita di forte recupero, più 1,23%, i mercati sono frizzanti, significa che in qualche modo insomma al momento almeno ci si aspetta una giornata abbastanza interessante. Guardate sono aumentati anche i volumi e questo la dice lunga su come i mercati stanno reagendo perché l'aumento dei volumi in una fase di discesa che ci sta tutto per carità ma soprattutto l'aumento dei volumi in una fase di recupero, quindi potremmo davvero essere di fronte al nuovo rally natalizio, all'inizio del rally natalizio, chi lo sa. Andiamo a vedere un pochino però quelle che sono le notizie importanti di questa giornata. Innanzitutto quello della variante ne abbiamo già parlato. Rimbalzano le borse asiatiche, rimbalzano le borse asiatiche dopo che ieri c'era stato l'ennesimo allarme, l'ennesimo allerta su Evergrande che veramente sta facendo preoccupare i mercati asiatici, soprattutto il governo cinese, oggi rimbalza Evergrande più 2,5% se non ricordo male, perché ha comunicato alle società di controllo di aver creato un comitato rischi incaricato di gestire quei eventi di problemi di liquidità, quindi staremo un po' a vedere. Rimbalza finalmente Alibaba più 9% ed era ora perché veramente Alibaba è in questo momento in una fase di ristrutturazione, il CEO si è dimesso o è stato dimesso, c'è all'interno quindi una fase di ristrutturazione delle gerarchie e inoltre l'azienda verrà molto probabilmente scorporata, verrà divisa in due, ci sarà una Alibaba per il mercato occidentale e una Alibaba per il mercato orientale, quindi questa divisione del business potrebbe portare sicuramente a una maggiore stabilità per quanto riguarda i prezzi che veramente hanno oscillato e sono crollati davvero tanto. Che altro dire? Altre notizie particolari non ce ne sono, torna ovviamente a salire il petrolio, un po' perché è tranquillizzato dalla fase di cui abbiamo già parlato, ma un po' perché l'Arabia Saudita ieri ha deciso di alzare i prezzi per i clienti americani e asiatici. Qualcuno l'ha giudicata una mossa un po' una sorta di vendetta e adesso staremo un po' a capire, a vedere quali saranno le mosse diciamo lato Stati Uniti perché non è detto che la cosa finisca qui, però per il momento diciamo difficilmente gli Stati Uniti riusciranno a qualche modo cercare di tenere sotto controllo il prezzo del petrolio. Detto questo andiamo a vedere un pochino quindi i grafici, tecnicamente abbiamo detto che Nasdaq è già in rialzo, più 1,19%, SP500 più 0,79, ovviamente siamo sui future e hanno appena aperto i mercati europei e li andiamo subito a vedere. Fuzzimib più 1,10, DAX più 1,11, UK più 0,76, Francia più 1,28, ieri Europa in grande spolvero più 2% per il Fuzzimib e più 2,20% per il Fuzzimib con le aziende del settore petrolifero energetico in primis che hanno veramente preso il largo ieri con Enis, Orgenia, Enis, Nam, Tenaris, quindi tutte quelle aziende legate un po' al mondo del petrolio e quindi dicevamo allora eccolo qua, adesso sul China 50 non guardate perché si è azzerato il contatore perché siamo passati al post, all'after hour ma su Lanseng di Hong Kong vedete siamo più 2,82% quindi grande rimbalzo, CSI 300 più 0,60%, Giappone più 1,73%, l'Australia più 0,41% quindi i mercati tendenzialmente diciamo in buon rialzo. Qui se vedete quello che sta succedendo possiamo vedere che comunque abbiamo fatto una certa, un movimento molto molto interessante. Andiamo a vederlo un attimino anche con Fibonacci, se vogliamo vedere un po' dove siamo arrivati qui e andando a vedere dove si è fermato il prezzo siamo a livello 0,55%. Vedete non è un livello particolarmente interessante perché teoricamente c'era spazio per scendere ancora un po' di più, non è sceso tantissimo alla fine però è sceso quel poco che serviva per poter scaricare le posizioni e per poter rialleggerire le posizioni di aziende che avevano bisogno ovviamente di essere riossigenate. Detto questo andiamo a vedere un po' quello che è successo su Moderna, Moderna meno 13%, ieri guardate come continua a essere estremamente volatile Moderna, continua a lasciare gap in salita, in discesa in maniera assolutamente incontrollata, quindi c'è davvero tanta 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 volatilità su Moderna perché è un'azienda che veramente si muove in modo quasi impazzito. Tecnicamente diciamo che ieri ha chiuso proprio sulla media 200 periodi e questo certo non gli giova, andremo un po' a vedere poi quello che succederà nel corso della giornata se oggi si riprenderà un pochino. Johnson & Johnson ieri invece ha beneficiato di queste notizie, si è un po' tranquillizzata e quindi ha recuperato a dispetto dei concorrenti, più e 23%, Pfizer ci ha rimesso un bel 5%, Novavax ci ha rimesso un meno 11%, ovviamente tutte aziende legate al mondo dei vaccini, Merck ha rimasto abbastanza stabile, ferma 73,42, ci sarà la distribuzione del dividendo proprio nei prossimi giorni 0,69 centesimi per azione, quindi questo è molto interessante per Merck Company e vedete che comunque tutto sommato è una delle aziende farmaceutiche che si è mossa di meno rispetto alle altre. Andiamo a vedere sempre nel mondo delle aziende nazionali come si sono comportate invece tutte le altre aziende. Andiamo nel mondo delle tecnologie, AMD meno 3,44% ieri, 139 dollari, guardate come AMD sta scaricando, ovviamente era cresciuta tantissimo, noi siamo usciti proprio sui massimi e sta scaricando giustamente in modo che si arrivi a un livello che sia buono per poter fare nuovi ingressi perché AMD comunque ha sicuramente un futuro molto molto rosio. Qui a livello tecnico vedete ieri siamo andati a sfiorare il livello 0,50-51 e siamo arrivati molto vicini alla media 50 periodi pur non toccandola, è probabile che oggi AMD farà un rimbalzino tecnico visto come si sta muovendo il Nasdaq. Anche Nvidia ieri brutto, candelona davvero tremenda ieri perché stava facendo davvero meno 6, meno 7%, poi ha recuperato sul finale chiudendo a meno 2,14 ma vedete che anche Nvidia che era cresciuta tantissimo ha fatto più o meno la stessa strada di AMD, guardate ve la faccio vedere, eccola qua, non la misuriamo qui, non ha preso, eccola qua, ha fatto più o meno lo stesso movimento che ha fatto AMD, vedete è andata anche qui molto vicino al livello 0,52 e molto vicino alla media a 50 periodi, non ci è arrivata, oggi con probabilmente assisteremo a un rimbalzino anche dal punto di vista di Nvidia. Ieri abbastanza bene Amazon, più 1,11, benissimo Apple, 165 più 2,15, bene Facebook recupera più 3,59, nella norma diciamo Google più 0,81, Microsoft più 0,98, Intel ieri ha fatto più 3,53% alla faccia di AMD che ovviamente soffrendo un po' di più, Intel ha già sofferto nei giorni scorsi, anzi nei mesi scorsi, quindi giustamente ha cominciato a recuperare un pochino di terreno e qui vi ricordo che Intel ha da colmare questo gap qua aperto proprio qui a 54 che deve andare a chiudere, probabilmente ci riuscirà entro la fine dell'anno ma bisogna fare molta molta attenzione perché comunque ci sono delle resistenze da affrontare, soprattutto qui a livello 53 e poi ci sono delle resistenze tecniche, qui a 51,35 e qua su a 56, quindi molta attenzione anche su AMD. Sul mercato italiano ieri bella prova vi dicevo di Eni che ha fatto un bellissimo più 2,30% e guardate oggi già apre in gap, in rialzo, siamo già a più 1,29%, ovviamente sugli energetici c'è la spinta del petrolio come vi avevo già detto, entriamo a vederci un po' quello che sta succedendo sulle materie prime, partiamo dal gas che abbiamo considerato nei giorni scorsi, ci ha sorpreso in maniera piuttosto pericolosa, proprio domenica notte aprendo in gap negativo andando ad aprire sotto i 4 dollari, sotto i 3,80 in maniera inaspettata dal mio punto di vista, tanto che vi avevo detto che per me il gas era rialzista per i prossimi giorni e invece ha fatto un'apertura in gap davvero incredibile, ieri è rimasto molto molto negativo, è andato a toccare i minimi a 3,67, 3,65 e adesso deve stare recuperando un pochino, siamo a 3,77 più 3%, chiaro che innanzitutto da un punto di vista tecnico ha questo gap qui da dove andare a recuperare, però c'è questo livello di attenzione a 3,90 che sarà una resistenza per il momento abbastanza forte, soprattutto perché si scontrerà anche con la media a 200 periodi, quindi occhio al gas perché sta diventando veramente complicato, sta diventando veramente imprevedibile. Petrolio più 1,05% per continuare a recuperare il petrolio, 70 dollari sulla media a 200 periodi, ha rimbalzato su questo bellissimo supporto dei 65, su cui vi avevo già detto nei mesi scorsi che per me i 65 era un prezzo più che ideale per il 2021 per il petrolio, ora rimbalza, si porta sulla media a 200 periodi ovviamente spinto dalle notizie che arrivano dall'Arabia Saudita e un po' da quelle che sono i contrasti tra Stati Uniti e il cartello degli Stati Uniti contro l'OPEC Plus, quindi molta molta attenzione anche qui. Allora recupera un pochino il grano, vedete 8,11, si riporta il leggero rialzo, ieri è stata una giornata abbastanza indecisa, per il grano ha oscillato verso il basso, poi è tornato su, si sta un pochino consolidando, diciamo per me resta valida la proiezione di lungo termine, di medio termine come volete chiamarla, comunque di lungo termine che porta il grano a livelli di prezzo davvero molto molto più alti e vi ricordo anche che è uscito un report proprio l'altro giorno in cui le proiezioni diciamo dei produttori di cereali, di granaie negli Stati Uniti vede i prezzi di questi aumentare nei prossimi mesi, soprattutto anche dovuto al prezzo dei fertilizzanti e vi ricordo che col gas naturale si producono i fertilizzanti, quindi si producono anche i fertilizzanti, quindi ci sarà anche da tenere d'occhio questo aspetto ovviamente, quindi staremo a vedere un po', terremo monitorato la situazione. Oro, oro che resta tutto sommato stabile, malgrado le scossoni degli ultimi giorni si è placato l'oro a 1,780, in questo momento è presa una strada abbastanza piatta, sull'oro ovviamente c'è tanta confusione, è ancora una materia prima molto difficile da andare a tradare in questo periodo perché non si sa bene che tipo di strada voglia prendere, non voglia prendere, sul lungo termine per me non cambia la mia visione, per me l'oro resta abbastanza rialzista, staremo però a vedere quello che succederà ovviamente a secondo di come cambieranno le politiche monetarie delle varie banche centrali. Chiudiamo la parte di azionariato basato sulle commodities e quindi sull'azionariato puro e andiamo a parlare di qualcosa di meno reale, tra virgolette andiamo a parlare delle cripto bitcoin. Allora abbiamo fatto il video proprio sabato con il mio assistente speciale che vedo che vi è piaciuto tantissimo, ha ricevuto tanti consensi e tante visualizzazioni, vi ho spiegato cosa era successo nel crollo di bitcoin e cosa sta succedendo adesso, io vi ripeto dal mio punto di vista era un crollo totalmente fisiologico che poi si è stato manipolato ovviamente questo è fuori di dubbio, però serviva per scaricare le posizioni, infatti vedete che adesso bitcoin 51k oggi sta tornando a recuperare le sue posizioni, adesso ovviamente ci metterà un po', faticherà un po', quella che era la mia previsione, cioè la mia analisi statistica ciclica che vedeva bitcoin a 100k entro la fine dell'anno, chiaro che adesso comincia ad essere leggermente più complicata da sostenere, però le criptovalute come abbiamo visto che fanno meno 20% in un giorno possono benissimo fare più 20% nel giorno successivo, quindi staremo a vedere, teniamo monitorata la situazione, per il momento non cambia la mia strategia su bitcoin di lungo termine, per me resta comunque in una fase abbastanza rialzista. Recuperano un po' tutte, recupera soprattutto Ethereum 4.400, quella che ha recuperato di più e recuperato meglio, Binance soffre un pochino di più oggi 5.85, Tezos più 0.13, ADA più 2.67 si riporta intorno a 1.50, anche Cardano sta faticando tantissimo per delle vicende che sappiamo legate alla SEC e al delisting da parte di Etoro per gli utenti americani, delisting che comunque avverrà nel 2022 e non in maniera immediata, e poi andiamo poi a vedere le altre cripto che hanno sofferto un po', quindi andiamo a vedere Zcash che ha fatto un bellissimo crollo, dando l'opportunità magari di rientrare su prezzi un pochino più interessanti, qui siamo a 170 oggi, poi abbiamo Descentraland più 4.56, oggi siamo a livelli molto molto interessanti, qui siamo, scusate, accorcio un pochino il grafico perché siamo tornati su livelli interessanti, diciamo siamo intorno ai 3.90, sfioriamo i 4 dollari e quindi tutto sommato togliamo magari il logaritmico perché ci dà una sensazione un po' falsata e torniamo tutto sommato su livelli anche qui interessanti, abbiamo ancora questo supporto a 3.15, 3.20 che sembra essere valido e regge per il momento da supporto al prezzo e questo sicuramente per chi investe in Descentraland è una buona notizia. Per il resto si muovono un po' tutte in territorio positivo, chi più e chi meno, diciamo qui abbiamo CRO, CRO è il token di Crypto.com e l'exchange che trovate tra l'altro il link qua nei miei video sotto se volete iscrivervi riceveteci 25 dollari gratuitamente per l'iscrizione, progetto interessantissimo quello di CRO tra l'altro che ha messo in campo anche tanta tanta forza di marketing e per il momento insomma tutta una serie di app davvero interessanti che sto esplorando per cercare un po' di capire quali possono essere i vantaggi. Altro non c'è da dire per il momento se non che ovviamente oggi non mi aspetto grandi grandi scossoni almeno speriamo, incrociamo le dita perché veramente non si può mai dire però ripeto per il momento sempre che stiamo affrontando una giornata abbastanza serena quindi io torno di nuovo a ringraziarvi per l'obiettivo raggiunto e speriamo di poter fare di meglio poter fare molto meglio aspetto i vostri commenti aspetto i vostri like mi raccomando dubbi chiedete sempre andate iscrivervi al canale ci vediamo ai prossimi aggiornamenti stay tuned finger cross it ciao a tutti